Si accenderanno le 18.30 domani i riflettori dello stadio Bonolis di Teramo, dove il Padova va a caccia di tre punti e di certezze dopo un inizio di stagione tutt'altro che convincente. E al centro dell'attenzione sarà il tecnico Brevi, chiamato a trovare al più presto la quadra del cerchio, prima del Tour de Force che vedrà i biancoscudati incontrare una dopo l'altra tutte le favorite alla vittoria del girone. Ci aspettiamo dei miglioramenti in tutte le situazioni, abbiamo recuperato qualche giocatore, non completamente tutta la rosa, però come dicevo avevamo qualche problemino soprattutto per due gare ravvicinate, invece in questo momento siamo riusciti a recuperare chi aveva qualche acciaco, quindi siamo fiduciosi. Chi invece non si vuole fermare è il Pordenone, al comando della classifica dopo il colpaccio del Bottecchia contro il Venezia. I neroverdi sono chiamati all'esame Bassano in un derby del Triveneto che andrà in scena alle 20.30. Sfida ostica però anche per i Lagunari che alle 16.30 ospiteranno la rivelazione Samb, terza in classifica e con una partita ancora da recuperare che andrà in scena martedì alle 14.30 contro il Padova. In Sariebi invece il Cittadella ospita in serata il Frosinone per dare continuità ad un cammino fino ad ora quasi perfetto con sei vittorie in sette gare e una solidità convincente. Impegno domenicale invece per l'Elas Verona che è l'ora di pranzo al fronte al Brescia per incamerare la quinta vittoria consecutiva e non perdere contatto con la vetta. E alle 15 esordio sulla panchina del Vicenza per Pierpaolo Bisoli chiamato al difficile compito di risollevare una squadra all'ultimo posto in classifica e con il morale a terra e la gara casalinga con l'Avellino per il momento sopra di un punto potrebbe essere la buona occasione per ritrovare i tre punti. E sempre allo stesso orario scende in campo la Serie D dove gli occhi saranno puntati sul campo d'Arsego di Enrico Cunico chiamato a riscatto al Gabbiano contro il Monte Belluna dopo la pesante sconfitta di Verona con la Virtus Vecomp.